Allora, lo vedi quel cartello lì? Quella è l'isola della Certosa dietro, quella dove ci siamo fermati al bar. Ma divertente che davanti c'è quest'isola che sta venendo fuori, perché tu hai questo grande canale che va verso la bocca di Porto di San Nicolò, dietro hai il canale che è quello da cui siamo arrivati, ma qui si sta creando tutta una zona dove si depositano sabbia e sedimenti. E quindi negli anni sta venendo fuori un'altra isola e a forza di cingerla e proteggerla, probabilmente tra 50 anni qua sarà edificato. Devo studiarmele meglio, però secondo me è così che costruisco le isole di Venezia, si appoggiano su delle strutture che l'andatura dei canali va a sottolineare. Ed è per questo che spesso i palazzi hanno i muri a Venezia curvi, perché si appoggiano su delle isole che sono segnate dai ri, dai canali, come per esempio Campo San Polo oppure Capesaro, bellissima. Per caccia al tesoro del 14 di settembre www.viaggioscoperta.it E ovviamente la caccia al tesoro la facciamo qua in piazza San Marco!